Parliamo del BeClean Pro, la spazzola facciale termica e sonica per una pulizia profonda, l'ultimo dispositivo per rimuovere il trucco, detergere e massaggiare. In questo video stiamo per esplorare le funzioni e le caratteristiche di questo incredibile strumento che ti aiuterà a ottenere una pelle bellissima e sana. Il BeClean Pro ha la tecnologia termale della spa. Questa spazzola è l'unica sul mercato con una modalità di riscaldamento, rendendo la rimozione del trucco più facile e efficace che mai. Inizia accendendo il dispositivo e regola l'intensità dello spazzolino secondo le tue preferenze. Ha otto livelli di intensità diversa, quindi scegli l'impostazione che si adatta al tuo tipo di pelle e sensibilità per un'esperienza personalizzata e su misura. Poi inizia a massaggiare il tuo detergente. C'è un timer integrato di 5 minuti per un uso ottimale in ogni sessione. Questo ha 8000 pulsazioni soniche transdermiche al minuto, grazie alla sua tecnologia sonica. Queste pulsazioni puliscono a fondo la tua pelle, rimuovendo impurità e lasciandoti con un aspetto fresco, pulito e sano. Inoltre, è il tranquillo spazzolino viso sonico disponibile, garantendo un'esperienza di cura della pelle pacifica e piacevole. Con le sue 12 zone di massaggio in silicone, questo dispositivo offre un massaggio delicato e stimolante che favorisce la circolazione e rivitalizza la tua pelle. Il BeClean Pro è progettato con delle linguette ultrasottili di 0,6 mm e con del silicone medico ultraigienico. La testina flessibile con setole morbide si adatta perfettamente alla forma del tuo viso e della tua mascella, permettendo una facile applicazione e raggiungendo anche le zone più difficili da raggiungere. Assicura una pulizia completa ed efficace ad ogni singolo utilizzo. Una volta che hai finito la fase di pulizia, puoi poi applicare il tuo siero o idratante. Poi, usando l'altro lato del dispositivo, massaggialo per far assorbire meglio il prodotto. Il BeClean Pro non è solo efficace, ma è anche comodo. Viene fornito con una base di ricarica induttiva, eliminando la necessità di cavi. Basta mettere la spazzola sulla base di ricarica.